Taranto e Short è un festival internazionale di cortometraggi che è giunto alla sua terza edizione e quest'anno ha il sostegno importante, anzi direi fondamentale, della CGL senza il sostegno della quale non avremmo potuto realizzare questa terza edizione perché noi siamo un festival principalmente autofinanziato e soprattutto che non ha mai finora avuto nessun tipo di sostegno dagli enti locali e quest'anno invece ci sarà una sezione dedicata al lavoro in cui proietteremo dei cortometraggi che appunto hanno una tematica a sfondo lavoro e diritti dei lavoratori e soprattutto nella serata del 26, quindi domenica 26 proietteremo 5 cortometraggi che saranno giudicati sia dalla giuria tecnica e poi ci sarà Giuseppe Massafra che ringrazio di nuovo per il sostegno al nostro festival che sarà il giurato di eccezione che assegnerà ad un corto il premio speciale della CGL Pensiamo che sia importante utilizzare ogni forma di comunicazione possibile per affermare questa cultura in questo territorio abbiamo bisogno di creare le condizioni perché attraverso una nuova cultura del lavoro si possa affermare un percorso che sia in grado di costruire nuova prospettiva Lo facciamo in un momento importante per la nostra attività che è quello in cui promuoviamo la Carta dei diritti universali del lavoro una imponente raccolta di firme a sostegno della proposta di legge che pensiamo sia la base, la pietra miliare con cui proviamo appunto ad affermare una nuova cultura del lavoro nel Paese Grazie a tutti